Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Sono momenti difficili per Antonella Clerici. Dopo una delicata operazione in cui le sono state asportate le ovaie, la conduttrice è stata colpita da un grave lutto familiare. Ha condiviso, per poi cancellare, un post su Instagram in cui ha espresso il suo dolore per la perdita improvvisa del cugino, Roberto Clerici, affettuosamente chiamato Chicco. Vediamo i dettagli. Roberto Clerici, 77 anni, era molto attivo nel mondo contradaiolo di Legnano. Questo impegno è stato riconosciuto dal comune vicino a Milano che, nel 2022, gli ha conferito la benemerenza civica per aver collaborato attivamente con numerose realtà ricoprendo incarichi dirigenziali e mettendo sempre a disposizione la sua esperienza. Dal letto dell'ospedale, Antonella Clerici ha scritto un messaggio che esprime tutto il suo dolore. Non posso credere che tu non ci sia più aveva scritto su Instagram Antonella Clerici. Legnano e il tuo adorato palio sentiranno la tua mancanza. Mancherà il tuo entusiasmo gioioso e la tua voglia di fare sempre cose nuove. Riposa in pace Chicco, amato cugino. Anche il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, insieme all'assessore con delega al palio e alla giunta, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Roberto Clerici. Lascia un pensiero di cordoglio per questa grave perdita. A presto.